Do you want to speak like a native speaker? Allora ti suggerisco di guardare questo video. Ciao, sono Monica ed impara l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio rivelarti il significato dello slang che ho selezionato per te questa settimana. The slang of today is deeds, not words. Deeds, not words means do it, not say you would do it. L'espressione deeds, not words significa fatti, non parole e quindi un'esortazione a fare qualcosa che in realtà finora si è solo predicato bene a parole. Facciamo un esempio. My boss motto is deeds, not words. Il motto del mio capo è fatti, non parole. Bene, per oggi è tutto. Io ti aspetto la prossima settimana con un nuovo slang e nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona che vuole imparare a parlare inglese like a native speaker. A presto! A presto!